Salve a tutti ragazzi, io sono TheKeyoKid Bentornati nuovamente qua su mio canale, siamo sempre qua in compagnia del nostro amichevole Spider-Man di quartiere Della lontanissima PlayStation 1 Come siete signori, tutto bene? Spero proprio di sì Allora, prima di, come sempre, riprendere il gioco da dove ci siamo lasciati la scorsa volta H, miseria che sbaglio sempre, sezione Vediamo un po' se c'era qualcuno, a parte i symbiotte bastardi Però, però Vabbè, qua c'è Mary Jane Beh, Peter Parker Lovely Wives Quindi ama, ama sua moglie Beh, molto in veste da Striptease, con musica in sottofondo Musica che ovviamente mi sto immaginando io Che è quella di George Michael Magari la metterò in sottofondo Così Poi bastardi symbiote Molto tosti, molto tosti E poi, allora, andiamo adesso sui comic collection E abbiamo, quindi, letto questo qua nella scorsa volta E mancano questi due fumetti Quindi, questo qua si tratta di Il Amazing Spider-Man 42 The Birth of a Super Hero Quindi la nascita del supereroe Vediamo un po' insieme di che si tratta Con l'aggiunta dell'artista John Romita Dovrebbe essere così Il mondo ha il suo primo sguardo Il mondo ha il suo primo sguardo completo A Mary Jane Zia Mae e Anna Watson Hanno cercato di incastrare questi due per un po' E quando finalmente Peter Parker incontra Mary Jane Dice la sua frase memorabile Ammettilo, tigre Hai appena fatto jackpot Carino Carino Dai, ci stava, ci stava Non male Vediamo adesso il secondo fumetto Di che si tratta Il The Amazing Spider-Man 100 Probabilmente è un anniversario A The Spider or The Man Vediamo un po' insieme Di che si tratta Dunque, questo invece È l'edizione del centesimo anniversario Di Credo del fumetto di Spider-Man Quindi in questo numero Peter Parker decide Di inventare una pozione Che potrebbe privarlo dei suoi poteri Quindi prende la pozione Che però finisce per mutarlo ulteriormente Al risveglio da uno stato di delirio Peter scopre di aver sviluppato quattro nuove braccia Che figo Questo mi fa ricordare uno dei cartoni animati Che facevano comunque la serie Su Sulla Mediaset Quindi su Italia 1 E c'era appunto questa cosa Che L'uomo ragno appunto Si era proprio trasformato In un vero E proprio ragno Nel senso che gli spuntavano Prima Altre quattro braccia Quindi Due Due sul lato destro E due sul lato sinistro Per poi appunto Diventare tutto super pelosissimo Quindi quasi Quasi come Un vero ragno E Molto molto figo Ok Quindi ci siamo Direi adesso di proseguire il nostro gioco Da poi in poi sarà veramente tosto Perché ci saranno i Venom I Symbiote Pardon E Quindi proseguiamo con Stop the Process Vai Minchia Questo sarà un casino Allora Sì Dobbiamo distruggere I generatori di Di Venom Beh di Symbiote Minchia Sbaglio ogni volta A parte l'audio Fortissimo Però Com'è fortissimo Il mio audio Verso Sti cosi Ok Allora Io ho Una serie difficoltà Nel Esplorare la zona Dal basso Quindi direi di Vedere tutto quanto Dall'alto Tra l'altro Piccola chicca Spider-Man Ha il senso Di ragno Comunque Quando Passa sopra Diciamo Queste macchine Che sfornano I giornali Perché appunto Potrebbe venire Schiacciato Allora Vediamo un po' Di far fuori Anche l'altro O lo lasciamo Levare Io lo Lo lascerei Anche lì Sti cazzi Allora E qui anche Dovrebbe esserci Un fumetto Dietro Anzi sotto Tutti questi Rotoli Questo non lo posso Sollevare No Quindi questo Magari non è È finto Forse questo No neanche questo Bastardo Vieni sotto Tutto infame Eh sì L'unico Trucchetto Era quello Di Bastardi E quello Di prenderli E bloccarli Momentaneamente Con la ragnatela No Che questo qua Non lo prende Strano Io Ricordavo Che era Uno di questi Poi vedremo Bene Vedremo Bene Ok no Questo qua Non lo solleva Vabbè E Vediamo ancora Un attimino Dall'alto Se c'è qualcosa Di particolare Che mi son perso Ok No Sembrava Quindi possiamo andare Adesso in questa stanza Ci sono gli altri No Spidey Merda Eh sì Allora L'unica Davvero Soluzione Per ora Per combatterli Perché sono Veramente Tosti Niente Ok No Pensavo Che la presa Col pugno Dopo un po Servisse Invece Col cavolo Perché poi Sono loro Che mi prendono E mi buttano Via E mi fanno Anche danno Allora Io qua faccio Un salvataggio Rapido Allora Salvataggio Rapido Effettuato Vediamo un po' Se è dall'alto Che c'era qualcosa Eh io Esploro Comunque Sempre Tutto No Ok Qua non c'era Niente Quindi Riscindiamo Giù Adesso si è aperta La zona Qui a sinistra Dovrebbe mancare Un solo Generatore Ah mi si è chiusa La zona Oddio Sì Fico Non muovere Cazzo No Non ha ficcato Il pugno Allora Stiamo andando Adesso Nella solita Zona Dove c'è la Saracinesca Che si abbassa Ma Volevo capire Se quelli Potevo Distruggerli In qualche modo Fortuna che ho fatto Il salvataggio Rapido L'ho toliti Dal cazzo Ok Aspettiamolo qui Salvo Di nuovo Allora Quindi Abbiamo distrutto Forse era questo qua Che bisognava Sollevare Dove è finito Ah è là sotto Che sbava Guarda che schifo Cavolo Ce n'è un altro Sono tosti Togliti Cazzo Due Sì Vabbè No Con due Quanto Spreco Di ragnatela Così No 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 Quanto due No Allora Fortunatamente Ho salvato Prima Con un salvataggio Rapido Direi adesso Di andare Via Da qua Perché Sto cazzo Di zona Spadi Uh Stiamo là Uh Bella Allora Questo è La ragnatela Di fuoco Che ci sta Io questi Me li schippo tutti Perché non ho voglia Ok Me ne rimane uno Stiamo Avendo Troppi Simbioti Intorno Me ne rendo conto Me ne rendo conto Salvo Oh ma li pigliasse Mai Maledizione Questo non so Cosa mi Serva Oh Vaffanculo Si stronzi Allora Quella lì È l'uscita Ed è Ok Qui salvo Un momento Ok Là c'è Una cartuccia Di ragnatela Rossa E qua sotto Dovrebbe esserci Il fumetto Quindi Che si prende Solo dopo Aver Distrutto Tutti I generatori Mi Ricordavo Bene Allora Perfetto Ok Adesso direi Che possiamo Assaltarci Tutta quanta La zona Perché non ho Veramente voglia Di stare lì E Ammazzarli tutti Perché voglio Conservarmi Le cartucce Di ragnatela Di fuoco Ok Possiamo andare giù Tostino Tostino Molto tosto Ah bene Non mi tiene In canna Ma questi Facciamo così Io ti giro Bastardo Bella Ci sta Maledetti Bastardi Allora Come sempre Andiamo in alto Perché Boh Mi trovo meglio Per l'esplorazione Più Meno Oh Oh Vabbè Aspettiamo Che arrivi qui Ovviamente Non vedo Finché Spide Non si gira Bastardo Ok Ho fatto anche Un salvataggio Rapido Perché Non si sa mai Allora Buttarli Dentro il fuoco Così Non è male Non è male Comunque questo Dovremmo essere Sempre nella sezione Del Daily bugle Insomma Dove cazzo Lavorano In miniera Allora Fatemi un attimo Capire No Devi spegnere Il gas Spidey Vabbè Niente Fallo Avvicinare Di qua Che ti devo dire Perfetto Ottimo Bella Però Lì c'era Un generatore Di Venom E quindi Siamo appunto A capo Cazzo Oh Mi devi fare Così Cavoli Piano No No è vero Cazzo Non li Non li posso Interrompere Quando C'è qualcuno Che mi Che mi Picchia Questo Sarà Tosto Merda Merda Ok E uno Devo farlo fuori Almeno a pugni Perché Non mi lascerà Mai il tempo Di Merda Ok Mamma mia Che parto Ogni volta Qua io Non posso Spegnere Ma quello è restato Lì No Adesso Proprio È per principio Devi finire lì Bastardo Ok Io so Che posso Anche Comunque Fermare Il gas No No Ok Questo No Vabbè Sti cazzi Andiamo avanti Tanto mi si è aperta Qua la zona C'è un altro Spider-Man Di là Che sta correndo Allora Siamo qua Davanti Questa sorta Di cella Dove abbiamo visto L'altro Spider-Man Andare avanti Quindi direi di Fare un saltino Ok Ah ok Era qua La parte Dove Bisognava Spegnere I gas Ok Perfetto Questo Non me lo prende No Spidey 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 Porca Troia Non ha funzionato Ok Bene Abbiamo distrutto Tutti Cioè Abbiamo bloccato Tutti i vari gas Uno Due Tre E Ovviamente Ci ha sbloccato Il fumetto E Le cartucce Di Ragnatela Infocate Che in questa sezione Servono E come Uccidiamoli così Ste Merde C'è un generatore Di 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 Symbiote No Ma Se provassi a Spegnere anche questo Ok No Questo qui è a Intermittenza Quindi non mi serve Qua Direi di Tirare giù Assolutamente Metti caso Che ci sono altri Symbiote Questo è un ascensore Ho un po' Paura Guardate che figata Anche sopra Che è bloccato Bellissimo Ok Proviamo ad andare di qua Chiuso E niente Andiamo avanti Comunque Mezz'oretta di video Non vorrei dire Ma Sto facendo Veramente più Complessi Ah è arrivato Dall'alto Ah provo ad andare su Anche io Bastardo Dove cazzo sei Spidey però Ok abbiamo finito Togliti Spidey però Minchia Non è possibile Guarda lì Ok qua Dovremmo Tirare la leva Per Cosa mi sblocca Quindi qua Adesso possiamo Tornare indietro Qui in alto Non c'è più niente Vero No ok Che tostata Signori Ah forse Mi ha aperto Una porta Sì Questa qua Merda Ma perché Devi far Mi devi fare Incazzare Dio santo Oddio Mi ha fatto Malissimo Ha tutti I cosi distrutti Ok Si lì c'è Un muro Invisibile Alla Dark Souls Togliti Se ti prende Sei morto Ok Mamma mia Fatemi salvare Allora abbiamo distrutto Tutti i vari Generatori E Praticamente Qua dietro Quindi Dietro L'ultimo Generatore C'è un muro Invisibile Me la ricordavo Sta cosa Poi c'era C'era stato anche L'ultimo Symbiote Che era entrato Guardate qua che roba Che figata Eh questa cosa Non la sapevano tutti Però Dunque almeno abbiamo preso Le cartucce Di ragnatela E niente Quindi abbiamo Beccato il secondo Spider-Man Quello che si aggirava In questo livello E lo stiamo anche Inseguendo Quindi Signori Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like E un commento Iscrivetevi al mio canale Qua su YouTube Se non l'avete ancora fatto E seguitemi Se vai nei social network Che non solo Troverete in descrizione Ma che saranno sempre Apparsi per magia Qua sul video Noi come sempre Ci vediamo Alla prossima Un salutone A tutti belli Alla prossima Ciao Alla prossima Alla prossima